Il comune di Tolentino è contrario all'ipotesi di accorpamento tra istituti scolastici. Le considerazioni del sindaco sclavi e dell'assessore Lucaroni. Domani, sabato 4 novembre, ricorre la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il Museo archeologico Moretti di San Severino Marche riapre le proprie porte con l'inaugurazione di una mostra. E nello sport, quarto trofeo, bocciabilità, ennesimo successo della bocciofila Tolentino. Ben trovati anche quest'oggi all'appuntamento con il nostro video news. A Porto Sant'Elpidio i militari della locale stazione dei Carabinieri hanno arrestato un giovane algerino, già noto alle Forze dell'Ordine per precedenti penali. Il provvedimento è stato emesso poiché il giovane deve espiare una pena residua di 7 mesi di reclusione, in seguito ad una sentenza di condanna per il reato di lesioni personali aggravate in concorso, commesso nel dicembre 2017 nel comune di Fermo durante una rissa. Ed un ventenne di origini tunisine da circa tre anni in Italia, lo scorso 30 ottobre si era introdotto con un gruppo di complici coetanei all'interno dello chalet L'Oasi sul lungomare Piermanni a Civitanova, scardinando nella porta d'accesso. Una volta dentro al locale, i malviventi hanno sottratto il denaro contante presente nelle casse, alcune bottiglie di superalcolici e quattro cellulari usati per prendere le ordinazioni ai tavoli, per un valore complessivo di oltre 1000 euro. Dopo solo quattro giorni di indagini, i carabinieri, mediante l'analisi dei sistemi di videosorveglianza della struttura, hanno identificato in un giovane residente a Tolentino uno degli autori del furto. Presso la sua abitazione, infatti, hanno rinvenuto non solo gli indumenti intossati dal ragazzo durante il colpo, ma tutti e quattro i dispositivi telefonici sottratti dallo chalet, poco prima che venissero rivenduti. Sembrerebbe che il giovane tunisino avesse preso contatti con alcuni suoi connazionali per piazzare la merce rubata. In queste ore, intanto, i carabinieri sono al lavoro per identificare il resto del gruppo, composto da almeno quattro persone. Notte di tormenta a fiastra a causa del forte vento, con alberi caduti, rami spezzati e conseguenze interruzione della viabilità stradale e dell'energia elettrica. Ancora una volta, devo ringraziare la protezione civile per il pronto intervento che ha saputo mettere in campo, agendo con competenza e celerità per assicurare il ripristino della normalità. Queste le parole del primo cittadino, Sauroscaficchia. Un grosso ramo si stacca da un albero e si conficca nel parabrezza di una Hyundai Tucson in transito in via Sandro Pertini a Tolentino. Il fatto si è verificato proprio quest'oggi, prima delle ore 13. Lanciato l'allarme, sono intervenuti sul posto i mezzi di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco. Il conducente della vettura, sotto shock, è stato accompagnato all'ospedale di Macerata per accertamenti. In un primo momento era anche stato richiesto il supporto dell'aliambulanza, che non ha potuto alzarsi in volo per via del forte vento e delle avverse condizioni meteo. Il comune di Tolentino, con un apposito atto di indirizzo, aveva espresso tutta la propria contrarietà agli accorpamenti tra istituti scolastici proposti dalla provincia di Macerata. Dopo le dichiarazioni di ieri del presidente Parcaroli e della consigliera delegata alla rete scolastica Sestili, a far chiarezza quest'oggi sulla questione sono il sindaco Mauro Sclavi e l'assessore all'istruzione Elena Lucaroni. Ascoltiamo quindi la loro intervista. Ridimensionamento o accorpamento delle scuole della città di Tolentino. Ospiti quest'oggi in studio il sindaco della città Mauro Sclavi e l'assessore Elena Lucaroni, con cui facciamo chiarezza su questa vicenda. A lei, sindaco, la parola. Grazie. Allora, ci troviamo qui a spiegare una situazione che mi è dispiaciuto molto leggere sulle croniche maceratesi, parole personali, oltretutto, che non entravano nemmeno in un merito che interessa le famiglie, gli studenti e il futuro delle nostre scuole. Cioè, bisogna comunicare ai cittadini che in quest'anno, a giugno del 2023, lo Stato stabilisce delle norme per ridimensionamento delle dirigenti scolastiche. La regione Marche, da 2,29, passa a 210 dirigenze scolastiche. Quindi le province, perché ne hanno loro il mandato, debbono in qualche maniera adeguare e dare le loro disposizioni, chiedendo alle scuole, che non hanno poi diritto di veto, ma soltanto si esprimono, la possibilità di dare una propria espressione come ridimensionare la scuola laddove è necessario. Quindi, voglio far chiarezza sulle date, perché io con la Sestili ci siamo sentiti insieme all'assessore qui presente, siamo andati sia in regione che in provincia. Quindi le date che cita la dottoressa Sestili sono relative al 16 settembre, al quale però ha omesso di dire che il 17 ottobre l'USR, l'ufficio scolastico regionale, emana le linee guide prodotte dalla regione. Quindi tutte le scuole si sono trovate nella condizione di deliberare qualcosa senza nemmeno che abbiano il parere della regione tramite le loro linee guida, perché questo fa la regione, emette le linee guida. La provincia le riceve e le applica. Questo ha portato a uno slittamento temporale che ha fatto sì che alcune scuole hanno deliberato tardivamente. Per questo noi abbiamo fatto una delibera il 31 ottobre, nella quale prendevamo una posizione forte, ma semplicemente nell'interesse di questa città che già è martoriata dal sisma e quindi non ne vediamo la necessità di un ridimensionamento, ma siccome sono organi sovracomunali che decidono per noi, almeno diciamo se è necessario ridimensionare le dirigenze scolastiche nell'ambico Tolentinate, siccome i nostri colloqui ci avevano già fatto intuire che il ridimensionamento andava sulla Don Bosco accorpata con altre strutture scolastiche, non proprio Tolentinate, ma chiunque avrebbe preferito che l'accorpamento si tenesse all'interno delle nostre mura, mura Tolentinate, quindi la Don Bosco e la Locatelli sarebbe stata la soluzione migliore, laddove ci sia questa idea di dover fare un accorpamento obbligatoriamente, perché se no la Presidenza in questo momento è vacante, ma i numeri sono consoli, anche se i numeri, perché l'hanno citato i 600, i 400 all'Uni, sono stati modificati dalle linee guida stesse che sono state emesse sostanzialmente e quindi c'è un carattere di perequazione generale su tutta la regione. Ora io ho parlato anche con la Sestili telefonicamente più volte dove mi ha chiesto di fare una delibera per aiutare a dirimere questa questione e noi così abbiamo fatto, perché noi la responsabilità di prendere una decisione, magari poco condivisa, molto condivisa o in qualche maniera non condivisa da qualcuno, ce la prendiamo senza dubbio, ma non a cuor leggero però, dopo aver valutato quello che la regione ha emesso con le linee guida, con i pareri delle scuole e avendo dei pareri non perfettamente collimanti, noi abbiamo dato la nostra delibera, la nostra espressione. Quindi la provincia è tenuta a comunicare le linee, le loro indicazioni entro il 17 di novembre, capite bene che c'è tutto il tempo per poter dire quello che vuol dire la provincia, perché noi la delibera l'abbiamo fatta il 31 di ottobre. Che cosa succederà quindi ora, Assessore? Noi, come ha detto già il Sindaco, ci auguriamo e ci siamo sempre augurati che gli istituti potessero mantenere la loro autonomia. Questo purtroppo potrebbe non avvenire, perché sappiamo benissimo e vorrei ribadire che sappiamo perfettamente quello che sta succedendo e che la Don Bosco ha perso una presidenza e quindi è andata in reggenza. Questo noi lo sappiamo, però come diceva il Sindaco, finché non ci sono state delle linee guida della regione, non potevamo neanche esprimerci in una proposta, perché avremmo messo sicuramente il carro davanti ai buoi. Una volta uscite le linee guida, ovviamente noi abbiamo ribadito con una delibera, come ci è stato chiesto, la non volontà di voler assistere alla perdita di autonomia degli istituti, ma ovviamente noi dobbiamo tenere al territorio comunale e quindi se proprio questo accorpamento ci dovrà essere, vorremmo che fosse un accorpamento dei due istituti di Tolentino, perché in questo modo andremmo a creare un istituto che manterrà entrambi i nomi, manterrà i plessi, manterrà le docenze, come ci è stato assicurato e manterrà quindi anche le classi, ma avrà sicuramente, come ci è stato assicurato dalla dirigente dell'ufficio scolastico regionale, ma avrà sicuramente una forza tale che potrà in qualche modo rimanere per molti anni come istituto del comune di Tolentino. Solo questo, noi dobbiamo difendere i nostri istituti. Anche perché, e mi intrometto, arrivare a 210 dirigenti non è il punto di arrivo, la regione sancisce che fino al 2026-2027 ci sono ancora delle riduzioni e allora l'amministratore lungimirante cerca di capire qual è la soluzione più a lungo termine sostenibile e questa a nostro avviso è quella più sostenibile a lungo termine, anche perché un accorpamento forzoso con distanze fra i plessi, distanze importanti fra i plessi penso che non sia gradevole per nessuno, né per gli studenti, né per gli insegnanti, né per le famiglie e quindi insomma questa è stata la nostra posizione. E nell'ambito di questo contesto si è tornato nuovamente a parlare degli altri due istituti della città, l'Ipsia Renzo Frao e l'Istituto Filelfo di Tolentino. L'Istituto Filelfo per fortuna non è stato incluso nella rosa dei punti in cui si poneva l'attenzione per la presidenza in questo caso, però noi abbiamo pensato anche questo, nel senso che Renzo Frao ha la sua sede a Sarnano ed è dislocato lungo tutta la vallata del Fiastra fino qui da noi. Il campus sono state aperte le buste e stanno facendo la variazione, quindi la valutazione tecnica, quindi io auspico con tutte le forze che questo campus possa nascere nel più breve tempo possibile. Laddove ci sarà il campus è chiaro che poi la sede è per questo motivo che noi ci siamo permessi di suggerire, perché questo è un suggerimento, non abbiamo titolo in questo ambito, di poter accorpare il Renzo Frao laddove è possibile con il Filelfo che viene ospitato qui nel territorio di Tolentinate. Un argomento questo molto importante, arrivato all'attenzione anche nazionale. Sì, effettivamente Striscia la Notizia è venuta qui ai Capannoni dove ci sono le superiori nel 22, mi pare aprile, e fece un nodo al fazzoletto per vedere se questa situazione si sarebbe poi risolta e insieme al Presidente della provincia come avrebbe risolto la situazione. E quest'anno è ritornata, è ritornata due giorni fa, tre giorni fa, facendo un'intervista a volante, prendendo in considerazione la situazione attuale sia dell'immobile che abbiamo poi fatto vedere, quello che abbiamo realizzato per gli studenti, sia le attuali condizioni di dove stanno a fare lezioni agli studenti e poi sono andati anche da Parcaroni. Però garantisco, sono molto curioso di vedere quello che è successo perché con la squaglia, che sia la squaglia in ogni circostanza, è difficile starle vicino. Domani 4 novembre sarà celebrato anche a Tolentino il 105esimo anniversario della ricorrenza del 4 novembre, anniversario della vittoria, festa delle forze armate e dell'unità nazionale. L'amministrazione comunale promuove un evento con l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sezione Cavaliere Luigi Adelmo Ludovici e con le associazioni combattentistiche d'arma. Previsto un programma di iniziative che si terranno per la giornata di domani, a partire dalla Santa Messa che sarà celebrata a San Catervo alle ore 10, al termine della quale verrà fermato un corteo che muoverà verso il monumento ai caduti in via nazionale, dove alle ore 11, dopo il silenzio d'ordinanza, verrà deposta una corona di alloro. I partecipanti si sposteranno in Piazza della Libertà, dove verrà eseguito l'inno nazionale e suonato il silenzio, oltre che deposte le corone d'alloro sulle lapidi. A concludere le celebrazioni, il saluto del Sindaco Sclavi e l'intervento dei rappresentanti degli studenti. E sempre domani si svolgeranno diverse cerimonie per il 4 novembre anche a Macerata. Presso la Chiesa dell'Immacolata in Corso Cavour alle 9.30 sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei caduti in guerra e in servizio di ordine pubblico, ufficiata dal Vescovo Nazareno Marconi alla presenza delle massime autorità del territorio e dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma. Alle ore 10.30, al monumento ai caduti in Piazza della Vittoria, avrà luogo l'alza bandiera con l'esecuzione dell'inno nazionale e la deposizione della corona d'alloro da parte del prefetto Flavio Ferdani. Seguiranno le letture del messaggio del Ministro della Difesa e del Presidente della Repubblica. La celebrazione si concluderà con la lettura della preghiera per la patria. E anche la città di San Severino Marche celebrerà la giornata dell'unità nazionale con una cerimonia ufficiale che prevede il ritrovo delle autorità e dei partecipanti alle ore 10.30 all'ingresso del Teatro Feronia. Da qui ci si muoverà in corteo fino al monumento dei caduti in guerra in Via Roma. Presterà servizio il corpo filarmonico bandistico. La cerimonia si chiuderà con gli interventi istituzionali. La cittadinanza ovviamente è invitata a partecipare. Anche i sette comuni marchigiani inseriti nello stato di emergenza dell'alluvione di maggio 2023 potranno attingere alla riserva prioritaria del Fondo Innovazione, intervento a sostegno della produttività che prevede una tranche proprio per le imprese con sede operativa nei territori colpiti. La dotazione finanziaria è di 75 milioni di euro, di cui 10 milioni per le piccole e medie imprese. I comuni marchigiani inseriti sono Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Monte Labbate, Pesaro Urbino, Sasso Corvaro Auditore. La montagna ai nostri paesi, nonostante la ricostruzione post terremoto e le difficoltà che stiamo affrontando, possono continuare ad offrire molto ai nostri visitatori. Parole queste del sindaco di Ussita, Silvia Bernardini, che nella conferenza stampa finale del progetto, Territori Forti e Fluidi, ha voluto ringraziare tutto lo staff organizzativo, i suoi colleghi sindaci e chi ha consentito il progetto. L'aggregazione ha visto insieme ad Ussita, Comune Capofila, anche Castel Sant'Angelo Sul Nera, Serra Petrona, Val Fornace e Visso. Il progetto ha fatto vivere il territorio, raccontandolo nel rispetto dei luoghi delle persone, rendendo protagonisti i paesini e le associazioni locali. Si è puntato moltissimo anche sulla creazione di contenuti tra testi, foto e video. La pagina Facebook, nata per l'occasione, ha raggiunto numeri davvero elevati. Quasi 16.000 sono state poi le interazioni con i post. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che hanno lavorato al progetto, quanto dichiarato dal sindaco in chiusura. Doppio appuntamento per visitare gli appassimenti aperti. Domenica 12 e domenica 19 novembre torna a Serra Petrona l'evento annuale, organizzato dall'Istituto Marchigiano di Tutela Vini per valorizzare il vitigno autoctono Vernaccia Nera. Ma scopriamo di più nel prossimo servizio. Appassimenti Aperti torna per la sua sedicesima edizione a Serra Petrona, culla di una tradizione unica nel suo genere, capace di attrarre esperti e turisti da tutta Italia grazie alle preziose cantine Scrigno. Nelle domeniche del 12 e del 19 novembre l'evento si snoderà dalla piazza centrale alle singole cantine, alcune delle quali apriranno le porte ai propri appassimenti, vero cuore della Kermess. Degustazioni e visite in cantina per scoprire dal vivo l'arte dei sapori autentici. Il borgo di Serra Petrona è custode degli appassimenti, ma anche e soprattutto dei saperi vitivinicoli che hanno permesso il riconoscimento delle due qualità espressione del vitigno, la Vernaccia di Serra Petrona di OCG ed il Serra Petrona DOC. Alberto Quacquarini, Colle Luce, Fonte Gioppa, Podere sul Lago, Serboni e Terre di Serra Petrona. Sono queste le aziende che vi aspettano con i loro stand di degustazione nella suggestiva piazza del borgo, carica dei primi colori autunnali. Sarà inoltre attivo un servizio di trasporto gratuito con navette operative dalle ore 14 per visitare le cantine, dove i produttori racconteranno tutta la passione che c'è dietro le loro denominazioni. Entrambe le domeniche l'intrattenimento in piazza è assicurato per le famiglie. Grandi e piccoli potranno lasciarsi incantare con giochi di prestigio e performance degli artisti di strada. La manifestazione è organizzata dall'Istituto Marchigiano di Tutela Vini nell'ambito del piano di promozione sostenuto dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione in collaborazione con il Comune di Serra Petrona. Domenica prossima, 5 novembre, Peppone, Livio e Margherita si trasformano in novelli Indiana Jones andando alla ricerca dei tesori nascosti nella culla del Rinascimento Marchigiano. La provincia di Pesaro Urbino, con Pesaro che sarà capitale della cultura nel 2024 e che però diffonde in tutto il territorio manifestazioni e opportunità di viaggio e di curiosità turistica colta. Il viaggio di linea verde parte però da un luogo magico, la Gola del Furro. È un canyon escavato nei millenni dal fiume nella roccia calcaria. Mentre Margherita esplora la natura, Livio va ad assaggiare la casciotta ma prima fa tappa nella rocca stupenda di Sasso Corvaro. Peppone invece va in cerca di tartufi seguendo il profumo della trifola ma anche le arie delle pesarese Gioacchino Rossini che in questi funghi ipogei era golosissimo. I nostri tre si ritroveranno poi agli essi per un finale di puntata a sorpresa. Prendere avvio in tutta Italia il 4 e 5 novembre l'iniziativa Benvenuti in Atelier un evento che celebra l'artigianato della moda di alta qualità. Il fitto programma nazionale prevede un evento presso l'Atelier di Francesca Creazioni Sposa a Civitanova dove sarà possibile ammirare i capolavori creati da Anna Maria Di Chiara. Con workshop e incontri con esperti, performance, visite guidate e aperitivi tematici l'evento intende esporre il talento e il savoir-faire di chi lavora dietro le quinte. Per informazioni è possibile consultare il sito di CNA Macerata o chiamare il numero 0733 77 32 62. Il Museo archeologico Giuseppe Moretti di San Severino torna a riaprire i battenti domenica 5 novembre con l'inaugurazione della mostra Oggetti, Riti e Rituali Morire a Settempeda tra I e III secolo d.C. L'esposizione sarà curata da Tommaso Cassi Cecacci, funzionario della soprintendenza archeologica Belle Arti e Paisaggio per le province di Ancona e Pesaro Urbino e da Davide Squillace, archeologo di Archeolab. La mostra è visitabile fino al 28 gennaio 2024. L'iniziativa presenterà reperti mai mostrati prima al pubblico recuperati dopo le indagini archeologiche eseguite tra il settembre 2021 ed il gennaio 2022 in occasione di lavori di costruzione di una nuova struttura commerciale in città. E' andata in scena con subito un grande successo di pubblico la prima della stagione teatrale Camerte. Il sipario dell'auditorium Benedetto XIII si è alzato ieri per ospitare il primo dei sei titoli in abbonamento C'è tra una volta, con Tony Fornari, Emanuela Fressi e Stefano Fressi per la regia di Augusto Fornari. Appuntamento con il prossimo spettacolo mercoledì 13 dicembre con La Ciliegina sulla torta. Allegro ma non spensierato spettacolo sulla famiglia e le sue molteplici dinamiche. Interpreti Edi Angelillo, Blassero Carei, Milena Miconi e Adelmo Favo diretti da Diego Ruiz. Amanti della buona musica, dei sapori autentici e dell'atmosfera festosa è tempo di segnare una data sul calendario quella di domenica 5 novembre dalle ore 16 con l'evento Sandra e i Parti si attende presso il Brigante a Piane di Potenza di Monte Cassiano un'occasione per vivere un pomeriggio all'insegna della musica live, del vino e della pizza che promette di regalare emozioni indimenticabili. Vediamo invece ora le previsioni meteo per domani e dopo la pausa pubblicitaria lo sport. Previsioni per sabato 4 novembre Cielo poco o parzialmente nuvoloso con graduale aumento della copertura nel corso del pomeriggio. Non si escludono brevi ed isolati fenomeni a ridosso dei rilievi Temperature in diminuzione nei valori minimi Venti deboli al più moderati Mare mosso